Commozione, rabbia, serranda abbassate, fiaccole e striscioni, in praia mare ieri sera un paese in lutto, in centinaia sono scesi in strada per ricordare Angela Anna Brando. Il corteo è partito alle 19.30 dal parcheggio dello stadio Mario Tedesco. Presenti l'amministrazione praticò è quella di Tortori, comitati, le associazioni, ma soprattutto i familiari della giovane e la gente comune. La 39enne morte il 25 novembre scorso per un arresto cardiocircolatorio è diventata il simbolo delle carenze sanitarie dell'alto terreno cosentino, dello smantellamento dell'ospedale di Praia Mare. Per tutti, infatti, a dare il colpo di grazia ad Angela è stata quell'ambulanza mai arrivata e allora di nuovo tutti in strada per non dimenticare e per dire alla politica regionale che tutto deve tornare come prima perché questo territorio è vittima di una riforma che ha già provocato troppo dolore. In molti hanno manifestato la propria paura perché quanto successa ad Angela potrebbe colpire chiunque in qualsiasi momento. C'è paura perché comunque se succede qualcosa nessuno ci assicura che arriviamo vivi al soccorso. Quindi, non lo so, magari morire come questa ragazza a un'età così giovane penso sia uno scandalo per tutta la sanità, non solo del sud ma anche di tutta Italia. È una marcia funebre, possiamo dire, grazie ai nostri politici che ci hanno portato a queste condizioni. Ma soprattutto la colpa non soltanto loro ma anche di noi cittadini affinché noi possiamo svegliarci e dare un grosso contributo affinché l'ospedale di Praia possa aprire e dare quella sanità che l'altro terreno può ricevere. La sanità è venuta meno in passato e secondo me dovevano valutare meglio la posizione di Praia perché dista troppi chilometri dal primo ospedale, diciamo. E quindi se non si prende un provvedimento avremmo vita difficile veramente. Speriamo che si riesce a riorganizzare, speriamo nella buona volontà sia soprattutto della politica e la speranza sicuramente non deve morire. Il corteo si è concluso alle 21 con un lungo applauso in ricordo di Angela e un appello. La lotta per l'ospedale di Praia Mare non è finita.